E' finita nel migliore dei modi la disavventura della cagnolina Chira salvata dai tecnici SAF per permettere alla malcapitata di poter tornare a scodinzolare dopo essere rimasta bloccata nei boschi di Sutrio nella frazione di Noiaris. Chira, razza spinone, è rimasta bloccata addirittura per tre giorni su uno sperone di roccia all'interno di due canaloni molto profondi. Ed è stato un lavoro intenso di otto ore per i tecnici spedio alpino fluviali insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e della centrale di Udine, i quali non si sono mai arresi all'idea di vedere Chira non farcela. Il cane si era allontanato all'improvviso per inseguire un animale selvatico e si era ritrovato poi bloccato lì, ovviamente senza cibo e senza acqua, su uno sperone di roccia friabile. Una volta individuato è partita la risalita sul canale per un dislivello complessivo di 250 metri, prima di salirne altri 100 con un sistema di corde fisse trasversalmente fissate al bosco. A quel punto un ultimo operatore, avvistato definitivamente il cane, ha scalato gli ultimi 30 metri per fissare l'ultima corda per far salire il resto della squadra. E tutto questo per la felicità di Chira che si è affidata alle mani dei tecnici SAF, i quali l'hanno imbragata stretta e riportata giù con calate di anche 200 metri fino al torrente sottostante, riportandola ai proprietari in lacrime perché hanno potuto riabbracciare la loro cagnolina dopo ore intense di attesa con l'intervento che è durato dalle 8 fino alle 16.